Erebo Curto propone all'opposizione di una sorta di organizzazione della stessa. Ma io credo che sia assolutamente doveroso, dopo aver dilapidato un patrimonio politico ed umano di dimensioni considerevoli, credo che sia opportuno e doveroso che il centrodestra riprenda il filo di un dialogo per andare a verificare le possibilità di poter ricomporre quel pezzo importante della società civile e politica francavillese che purtroppo negli ultimi tempi è andato in frantumi. Per andare alle questioni più strettamente tecniche e più legate alle amministrative, questo centrodestra potrebbe organizzarsi in vista delle regionali? In quale modo? Ma non so dire che cosa potrà accadere fra qualche mese. Peraltro il panorama politico è confuso a destra ed è confuso a sinistra. Credo che nelle ultime settimane avverrà sicuramente qualche cosa di diverso rispetto a ciò che è accaduto fino a qualche tempo fa, motivo per cui io non collegherei le due vicende, quelle amministrative di Francavilla alla vicenda elettorale regionale. Ci sono ancora troppe incognite a dimostrazione che la politica in generale ha perso un orientamento ben preciso e proprio per questo motivo l'opinione pubblica è molto disorientata. L'opposizione si organizza, Gianni Capoana ha colto favorevolmente, con qualche distingo ovviamente, la proposta di Euprevio Curto. Sicuramente l'opposizione a Francavilla ha la necessità di ritrovare quel bandolo della matassa che era stato perso durante le ultime elezioni amministrative, dove un centrodestra diviso in tre tronconi ha permesso all'attuale sindaco, con appena il 28% dei consensi, di assurgere al ruolo di sindaco in primis e di presidente della provincia successivamente. Abbiamo la necessità di ripercorrere un percorso che è stato foriero di vittorie e di soddisfazioni per l'area politica del centrodestra, ma abbiamo la necessità di fare sintesi, sì, su un sistema di opposizione a Maurizio Bruno, ma dobbiamo immettere anche in circolo delle idee e delle proposte alternative a questa amministrazione, partendo da un momento di condivisione tra i partiti e i gruppi consigliari. Questo metodo si potrà già sperimentare a partire dal prossimo Consiglio Comunale? Io mi auguro che già dal prossimo Consiglio Comunale, dove c'è un punto all'ordine del giorno presentato e richiesto dalla intera opposizione, si possa fare sintesi su alcune proposte e sui punti di vista che magari oggi possono essere divergenti. Mi auguro che il partito del nuovo centrodestra chiarisca definitivamente quella che è la sua posizione formale e sostanziale nei confronti di questa amministrazione, che lo vede all'opposizione sulle questioni marginali e alla maggioranza sulle questioni rilevanti. E mi auguro che si possa creare una forma di coordinamento tra i capigruppo presenti in Consiglio Comunale per l'opposizione coordinata all'azione amministrativa della Giunta Bruno e tra i partiti, anche quelli che non risiedono in Consiglio Comunale ma che sono di ispirazione e di aree di centrodestra, che guardano con interesse a un nuovo solco che il centrodestra può e deve tracciare in una continuità di linea politica a Francavilla.